Buongiorno dottore, per piacere potete pensare alla bambina? La bilancia dei bambini è rotta signora, ma va beh che sta la bilancia grande, noi facciamo anche il metodo di pensare alla mamma con il bambino, poi pensiamo alla mamma da sola e così per differenza abbiamo il peso. Capri dottore, non è possibile questo, questo metodo non è possibile. Perché? Io sono una zia, della bambina, ma scusa dottore andiamo a trovare un altro pedattico. Grazie.